Questa mattina la nostra redazione ha ricevuto diverse segnalazioni di un forte odore di gas nei pressi del centro della città. Per avere una risposta abbiamo sentito i Vigili del Fuoco. Allora, noi praticamente abbiamo solamente augurato che in città c'è stato questo forte odore di sostanza d'origine. Però abbiamo demandato all'ARPA e quindi stiamo aspettando ancora notizie da parte dell'ARPA. Quindi voi non avete effettuato delle verifiche nella zona industriale per capire se provenivano da là, ad esempio? No, noi abbiamo effettuato verifiche in città, in periferia dove le persone ci hanno segnalato questo forte odore nell'aria. Quindi noi abbiamo augurato che in effetti c'è stato questo odore di sostanza d'origine. Dopodiché quando abbiamo visto che la situazione è diventata un po' più allargata notevolmente, abbiamo incaricato l'ARPA a fare alcune verifiche da parte loro. D'accordo. Non ci sono state persone comunque che si sono sentite male? No, no, c'erano un paio di scuole dove i bambini accusavano un po' di tosse ma niente di particolare.